Ciao, sono Daniele di Zurigo Italiana. Oggi volevo parlare di qualcosa che è relativo, come al solito, a cose che mi succedono poi nella vita di tutti i giorni. Però un paio di giorni fa sono andato a farmi un'operazione all'occhio, alla palpebra, per rimuovere un ciccetto, qualcosa, che era dovuto a una disfunzione ghiandolare, operazione piccola, senza problemi, 15 minuti in una clinica qui di Zurigo, all'IMAT Clinic. Mi sono trovato bene, mi hanno tolto la benda, adesso sono semplicemente lì a guarire, mettendo qualche crema, qualche cosa per far sì che tutto proceda per il meglio. Perché mi collego a questo argomento? Perché per un italiano il modo di vivere l'assicurazione sanitaria è complicato all'inizio, è un rapporto difficile. Quando si pianifica una mossa del genere di andare a vivere a Zurigo, ci si chiede se valga la pena. In particolare, se lo stipendio sia abbastanza, è una delle spese che si sottovalutano, insieme all'affitto probabilmente, è la spesa sanitaria. La spesa sanitaria a Zurigo è obbligatoria ed è abbastanza elevata, minimo sui 300 franchi al mese per una persona singola. E semplicemente per le prestazioni di base, tra l'altro a questo si devono aggiungere una franchigia abbastanza alta. Rivenremo a parlare anche di questo, ma ci sono altri aspetti che si possono pensare riguardo all'assicurazione sanitaria, al privato, se aggiungere il privato o no. Per i bambini non c'è domanda, ovviamente sì. È una domanda che bisogna porsi abbastanza presto anche se si vogliono avere dei bambini. e si vuole ricevere un'assistenza migliore in reparto privato o semiprivato in un ospedale. Non si può pensare all'ultimo momento, quando si è già incinta, di chiedere un'assicurazione aggiuntiva privata. Bisogna ripensarci per tempo, diciamo, perché le assicurazioni private o semiprivate non sono per forza garantite. Quindi qualunque compagnia può rifiutarsi di dare questo servizio se, per esempio, ha una gravidanza già in corso. Ci sono altri aspetti. Ci stanno i broker assicurativi che si avvalgono di questo sistema un po' folle dal punto di vista di un italiano, di una specie di borsa in cui le assicurazioni ogni anno variano di prezzo, anche per le loro prestazioni di base. Le prestazioni di base sono garantite per legge da tutte le assicurazioni, che sia il sana, la tupria o qualunque altra. E però, pur essendo uguale per tutti, i prezzi variano. Ogni anno variano e quindi bisogna stare attenti lì quando arriva la scadenza a chi scelgo, chi non scelgo. Mi avvalgo di un broker, di una persona che conosco a mio personale. Qualunque sia il caso, comunque al telefono mi raggiungeranno e mi faranno domande se voglio cambiare, anche se io magari da dieci anni sono contento con la mia assicurazione attuale. Meglio non rimanere comunque con la stessa assicurazione, perché per gli stessi servizi appunto i costi variano. Quindi c'è un pochino da stare attenti a questa borsa. Ma non volevo concentrarmi nemmeno su questo, perché dal punto di vista di un italiano, secondo me ci sono forse tre temi che spuntano un pochino più come sorprese e come cose che ricorrono poi. La lingua è sempre un po' un problema iniziale e può rimanerlo anche, a seconda del lavoro che si fa, a seconda delle conoscenze che si hanno. Quindi prima di presentarsi una visita, prima di chiamare al telefono anche a un dottore, cercare i termini che si vogliono riferire, in modo da non ritrovarsi, come mi è capitato a volte anche a me, non mi vengono fuori le parole, come si dice il premolare, adesso non lo so, però lo andrei a cercare su Google, vado a vedere, ecco vedi, gli devo dire questa cosa, me lo devo ricordare, me lo scrivo magari, invece di fare... Potersi esprimere un pochino è importante, quindi questo è sicuramente un suggerimento sempre valido, la lingua, la lingua... Si può lavorare ogni giorno e migliorare ogni giorno un pochino, torneremo a parlarne comunque della lingua. I modelli assicurativi che esistono in Svizzera, quindi imparare un pochino il telemed, l'HMO e il medico di famiglia, questi tipi di modelli, per esempio il telemed da sconsigliare, soprattutto se non si vuole, soprattutto per bambini, se non si vuole essere legati a dover chiamare, per un anno l'abbiamo avuto per uno dei nostri bambini, si risparmia un pochino ma sei sempre obbligato a chiamare al telefono prima, un numero di telefono in teoria prima di poterti rivolgere a un medico, il che è una palla, se sei un po' di ansia, soprattutto il primo bambino, vuoi subito una risposta, vuoi subito andare dal dottore, vuoi anche un pochino essere rassicurato, ci sono casi in cui può essere utile risparmiare qualche cosina, decisamente per bambini lo sconsiglierei. Modelli assicurativi quindi bisogna conoscerli un pochino e andatevi a studiare per bene. Le franchigie però sono probabilmente il tema più, almeno per me, il tema più, e rimane il tema più differente da capire in Svizzera. Come funziona? Che anche per le assicurazioni di base, concentriamoci sulle assicurazioni di base, c'è un premio mensile, ovvero quello che andiamo a pagare al mese, che può essere per esempio per una persona di 39 anni, dico che non ha un'età a caso, io sono molto più giovane ovviamente, però per una persona di 39 anni, se scelgo una franchigia di 2500 franchi all'anno, allora dovrò andare a pagare per esempio 320 franchi al mese, fissi, anche senza ottenere nulla, anche se non vado mai dal dottore. Comunque 320 franchi al mese li pagherò. La franchigia di 2500 franchi però vuol dire che, se poi vado anche dal dottore, non solo ho pagato quei 320 franchi al mese, ma pagherò anche la visita, mi arriverà la bolletta e pagherò. E quindi 150 franchi li pago per quella visita, per quell'operazione devo pagare altro, devo andare a fare una visita di controllo dopo l'operazione e pago quella visita, fino a quando non raggiungo in un anno 2500 franchi, se ho raggiunto in un anno 2500 franchi, i successivi franchi non li pago più e sono coperti dalla mia assicurazione. Quindi una franchigia molto alta significa che in realtà dall'assicurazione fino a 2500 franchi non ricevo quasi nessun bonus, no quasi niente. Questo vuol dire che 320 franchi al mese sono 3840 franchi, che comunque se ne vanno, anche se sto sempre bene, anche se non vado mai dal dottore, e in più pagherò quello che vado a fare dal dottore fino a quando non arriva a 2500 franchi. Questa è la franchigia. Se scelgo una franchigia più bassa, allora dico, vabbè, scelgo una franchigia più bassa, 2000 franchi per esempio, una comune subito sotto, allora risparmio qualche cosa a fine anno, perché non pago 2500 franchi in un anno, pago solo 2000, quindi risparmio quei 500 franchi. Ovviamente però, se scelgo 2000 franchi di franchigia, poi dovrò andare a pagare al mese, per esempio su El San, ho visto un esempio, invece di 320 franchi al mese dovrò pagare 350 franchi al mese, quindi vuol dire 30 franchi in più al mese. Quindi alla fine dell'anno avrò speso 4200 franchi invece di 3840 per non far nulla, semplicemente per avere un'assicurazione. E poi quando vado dal dottore pagherò anche le bollette fino a quando non arrivo a 2000 franchi invece di 2500. Però mi è convenuto? Mi è convenuto soltanto se veramente arrivo a quei 2000 franchi e quindi risparmio per esempio e vado oltre. Allora se arrivo, perché? Perché io ovviamente sto pagando di più al mese, quindi in pratica devo controllare se davvero vado a spendere quei soldi durante l'anno e bisogna scegliere quindi la franchigia corretta e possiamo sempre sceglierla. Io fino ad ora avevo sempre stato l'idea 2500 franchi e vai che è la grande risparmio almeno al mese, tanto è che vado a spendere tutti quei soldi. Adesso quest'ultimo problema che ho avuto ghiandolare all'occhio mi fa chiedere se ogni tanto invece dovrei ripensarci. Magari scegliere appunto 2000 franchi, non arrivare magari ai 300 franchi, la franchigia minima, che per cui in un anno più di 300 franchi non puoi spendere, perché ovviamente al mese vai a spendere troppo di più. Però magari scendere a 2500 franchi e a 2000 franchi potrebbe essere un'opzione. Voi che ragionamenti avete fatto? Quanto conoscete le assicurazioni? Quanto le amate o invece quanto amavate il sistema sanitario nazionale italiano? Ci sono ovviamente tante altre considerazioni da fare anche sulla qualità del servizio sanitario. Questa era più sull'aspetto amministrativo e sul budget familiare. Come siete organizzati? Buona giornata.